Sarti, io la faccio subito la domanda, tanto se l'aspetta. Insomma, una donna che vede una collega che conosce bene in Parlamento, definita velina, cosa dice? Anche se a dirlo è Beppe Grillo. È d'accordo perché ovviamente per noi, lo ripetiamo, il valore non è quello di essere donna, ma candidare deputate che svolgono già il loro ruolo dentro il Parlamento significa tradire il mandato che ti hanno dato gli elettori. Perché il PD non ha coraggio e non candida, come abbiamo fatto noi, persone che non hanno già incarichi politici all'interno di amministrazioni comunali, regionali o all'interno del Parlamento? Si serve di quattro visi che piacciono, che piacciono all'opinione pubblica, che funzionano a livello di comunicazione e con questa operazione si tradisce, come ho già detto, il mandato che hanno dato gli elettori e si tradirà il mandato che eventualmente daranno gli elettori del PD per queste elezioni europee. È marketing. È marketing, Moretti? Lei è un prodotto di marketing? Ma insomma, io sorrido e mi spiace che la collega Sarti si esprima così, anche perché lavoriamo nella stessa commissione, in Commissione Giustizia, e quindi sa l'impegno che il gruppo del PD, ma anch'io personalmente, abbiamo dato su tante questioni, depositando proposte di legge. Vede, io credo che la battaglia e la sfida per l'europea è una delle più difficili, perché è una sfida dove devi raccogliere preferenze. Per cui, indipendentemente dalla posizione che tu hai, certo facilitata, perché il capolista rappresenta tutta la lista e quindi rappresenta un territorio molto vasto, ma sa, devono scrivere il tuo nome, per cui di fatto devono esserci figure non soltanto conosciute dall'opinione pubblica, ma figure che siano capaci in Europa di rappresentare al meglio il partito. Credo che per questa sfida, che è la più difficile che dovremmo affrontare, Matteo Renzi abbia dimostrato un grande coraggio, invece, perché ha dato la responsabilità di una competizione così alta a cinque donne che, ripeto, sono cinque donne che hanno una storia, che hanno delle competenze, che si sono distinte per meriti che hanno conquistato sul campo. Per cui, insomma, mi sembra che... Perché dice di no, Sart? Perché Matteo Renzi ha cooptato alle due del mattino cinque figure che gli servivano appunto come operazione di marketing. Ho capito, però non le ha prese dalla strada sottostante o dal bar sottostante. Certo che no, ma chi le ha scelte? Le hanno scelte i cittadini? Le capolista del PD per le europee, come abbiamo fatto noi attraverso le nostre votazioni in rete? No, le ha scelte Matteo Renzi. Questa è un'operazione di marketing. Però poi ce la giochiamo con il voto di preferenza e quindi io credo che in Europa debbano andare non soltanto figure conosciute dell'opinione pubblica, ma figure che vogliono impegnarsi in Europa per dare un voto all'Europa diverso. Ma lei quando ha letto questa cosa a Velline, ha riso o sei arrabbiata? Ho sorriso perché si tratta dell'ennesima battuta di un comico, tra l'altro un comico che ormai non fa neanche più ridere, nel senso che guardi, le donne sono sempre andate avanti oltre le offese, non ci hanno mai fermato nemmeno le offese e credo che se a guidare questa sfida sono le donne è perché è una sfida difficile, perché su di noi sanno che c'è, come dire, un'attesa particolare, perché sanno il sacrificio che ci stanno chiedendo, perché non è Matteo Renzi o il PD... Lei lo vive come sacrificio onestamente, onestamente, onestamente. Guardi, io francamente stavo portando avanti delle questioni molto belle, molto appassionanti, nelle quali ho creduto in questi mesi. Continuerò a farlo da un posto prestigioso, con un punto di vista anche molto più ampio, quindi non abbandonerò il campo, continuerò ad impegnarmi come ho sempre fatto, ma credo che la sfida europea oggi richieda più competenze. Quando Matteo Renzi dice che in Europa devono andare migliori, beh, insomma, questa cosa mi gratifica. Sarti, ma tutte e due non vi sentite, è la domanda che faccio a tutte e due, poi di dover fare Eva contro Eva, che è sempre una situazione per cui ci sono i maschi che guardano e voi che vi date puntura. Ma non è un discorso di donna contro donna, cioè, ribadiamolo, il fatto di essere donna non deve essere un requisito per farsi inserire in una lista per le europee. C'era De Castro, che era quello che doveva esserci. Che cosa cambiava per voi? Sempre così era un velino? Funzionava meno, sicuramente. Funzionava meno come immagine, ma sempre velino poteva essere. L'ho detto, il punto non è essere donna, è che candidare dei deputati o delle deputate per le europee, che già stanno svolgendo un lavoro dentro il Parlamento, senza che ci sia una scelta da parte dei cittadini stessi e dei loro elettori, non qualifica questo governo, non qualifica Matteo Renzi, non qualifica nemmeno le mie colleghe che si sono prese quest'onere e che si stanno candidando. Perché ci vorrebbe un'operazione diversa, cioè un passaggio dai cittadini, come abbiamo fatto noi con le nostre parlamentarie per le europee. La vedo serafica. Sono molto serena, sono molto serena e molto determinata. Sono convinta che guideremo l'Europa stavolta. Lei la buona fede a Mosca. Come il Partito Socialista Europeo. Lei sa che l'Europa è guidata da molto tempo da partiti di centrodestra. Io credo che il cambio di passo in Europa, cioè la diversità delle idee che porteremo in Europa, farà sì anche che ci sarà un'Europa che punterà sulla crescita, sull'innovazione. Andiamo a quell'altra vicenda che abbiamo visto subito prima, questa della ghigliottina o tagliola, perché poi non si sa mai quali dei due meccanismi è. È un nuovo vulnus o lei l'ha già votata alla Camera quella legge? In realtà non c'è nulla su cui protestare. Ma guardi, le minoranze hanno tutti gli strumenti per fare opposizione. L'ostruzionismo è uno strumento legittimo che però deve essere, diciamo, svolto secondo la tempistica che il regolamento della Camera ci dà. Un regolamento che va cambiato, che stiamo infatti impegnati a cambiarlo perché così non va. Così come vogliamo, per esempio, abolire il Senato perché riteniamo che il bicameralismo perfetto non fa dell'Italia un paese efficiente nei tempi soprattutto e competitivo. Ora, io credo che da questo punto di vista loro hanno tutti gli strumenti per fare opposizione. È legittima se ritengono che un provvedimento sia sbagliato però ad un certo punto il tempo e la regola va rispettato. Ma un rettimo, qui non è un discorso di regolamento. Questa proposta di modifica del voto di scambio l'abbiamo votata insieme al Senato perché è stata modificata dal Movimento 5 Stelle insieme al PD. Poi cos'è successo? La settimana scorsa è avvenuto un fatto gravissimo, un blitz a Montecitorio. Mercoledì sera Berlusconi si reca al colle da Napolitano. Il giorno dopo, giovedì scorso, il PD si piega al volere degli accordi e dalle proposte volute da Forza Italia e modifica questa legge abbassando le pene e togliendo la messa a disposizione del politico nei confronti del mafioso. Praticamente accoglie tutte le proposte di Forza Italia e approva in un'ora alla Camera la legge così com'è. Dopo queste modifiche, la legge ritorna al Senato in 5 giorni. Di solito il passaggio fra Camera e Senato è molto più lungo. Invece qui abbiamo una legge che nel giro di 5 giorni è ritornata al Senato e adesso vogliono approvarla in fretta e furia così com'è. Brunetta e i suoi compari di partito hanno festeggiato il giorno dell'approvazione della modifica del 416-3 giovedì scorso. Hanno festeggiato. Questo è un chiaro indirizzo per capire che... No, ma perché Brunetta è della mafia? Perché dice Brunetta ha festeggiato e quindi... Perché sappiamo benissimo che il popolo della libertà, perché ancora io, noi lo chiamiamo così, festeggia perché al suo interno ha avuto e dà tanti, tanti esempi di persone colluse con la mafia. Dobbiamo ricordarci Dell'Utri, dobbiamo ricordarci Magro e dobbiamo ricordare che giovedì scorso è stato arrestato Nicola Cosentino lo stesso giorno dell'approvazione del 416-3, del voto di scambio. Quindi avere le pene abbassate, a minime, a 4 anni, significa che nessun politico andrà in galera, perché con lo sistema penale che abbiamo oggi 4 anni non faranno andare i politici in galera? Guardi, c'è molta demagogia in questo discorso e anche molte imperfezioni, cose che non sono vere. Io dico solo questo, Don Ciotti, quindi sappiamo tutti l'impegno che Don Ciotti ha nei confronti della lotta contro la mafia e tantissimi magistrati esposti nella lotta contro la mafia, hanno detto che questa legge è perfetta. Don Ciotti dice che questa legge è perfetta frutto del lavoro di confronto importante che abbiamo avuto. Quando noi introduciamo in più anche lo scambio per utilità e quindi diamo di un segnale molto importante, ritengo che da questo punto di vista sia una legge che debba essere votata in fretta perché c'è bisogno di affrontare l'emergenza mafiosa in questo paese. Su questo so che non siete proprio d'accordo, anche sull'altra cosa per dire il vero. Tutte e due però siete curiosi di vedere la storia di Formigone, non so.